Secondo i dati Excelsior, il 40% delle imprese italiane nel 2022 ha trovato difficoltà a reperire profili specifici per le proprie aziende. Nel campo digitale, da qui ai prossimi 10 anni, serviranno programmatori informatici, creatori di contenuti digitali, esperti in sicurezza informatica, nel campo delle professioni, conduttori di impianti e operai di macchinari, Confindustria Umbria e la sezione dell'Eugubino Gualdese, segnando la strada per risolvere un problema destinato ad acuirsi nei prossimi anni, ovvero quello dello scollamento tra scuola e mondo del lavoro. Da qui l'iniziativa al Centro Servizi Santo Spirito di Gubbio, che ha voluto presentare i corsi dell'ITS Umbria Academy, la scuola di specializzazione post-diploma completamente gratuita, frutto di una collaborazione tra Confindustria, Università e istituti tecnici, nata per formare profili richiesti dalle aziende. Invitati gli istituti scolastici superiori di Gubbio e Gualdo Tadino, presente la dirigente del Casimiri, Sabrina Antonelli, che ha ricordato dal prossimo anno il cambio della normativa proprio sulla formazione. Lo stesso PNRR ha previsto la riforma dell'orientamento e quest'anno, proprio il 22, cioè lo scorso anno, perché il 22 dicembre sono uscite le nuove linee guida. Nuove linee guida che prevedono, a partire dal prossimo anno, per ogni studente della secondaria, quindi secondaria io parlo di primo e di secondo grado, sono previste 30 ore di moduli formativi per l'orientamento. Per decidere cosa fare? Sì, per prepararlo e per realizzare un progetto di vita e abituarlo a questo discorso. Pari gli interventi coordinati da Giacomo Marinelli Andreoli, oltre ai TS, Confindustria, le associazioni di categoria, i sindaci stirati e presciuti, gli studenti che stanno frequentando o che hanno frequentato i corsi. Le conclusioni dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni. Paradossalmente, a fronte di un tasso di disoccupazione così elevato, noi abbiamo un sistema delle aziende, che lo diceva prima, se lo sbaglio, anche il sindaco stirati, che non trovano profili, lo diceva anche il sindaco presciutti, non trovano profili professionali, tornitori, operai specializzati, operatori di macchine utensili, operatori su macchinari 4.0, ma anche a livelli più bassi il paradosso che noi, che abbiamo fatto dell'Italia, della moda, il paese, il settore che più ha contribuito, fra quelli che più hanno contribuito all'identità del nostro paese, non troviamo più modelliste, non troviamo più rammendatrici, non troviamo più magliste. Allora, noi purtroppo in questo paese abbiamo, lo diceva bene prima il sindaco presciutti, abbiamo demonizzato questa parola che è la formazione professionale e spesso anche con complicità di alcuni mondi culturali, politici, c'era questa logica della scuola come ascensore sociale, ma non considerando la formazione professionale come un ascensore sociale. Oggi invece la formazione professionale paradossalmente è il più straordinario degli ascensori sociali. Perché?